Signore e signori buonasera, benvenuti a casa mia e ben ritrovati qua nel solito disordine casino della mia libreria. Allora, cari signori, questa sera io e l'amico Gianluca Bertozzi faremo le pulci a un mito assoluto e totale della seconda guerra mondiale, ovvero sia a Erwin Eugen Johannes Rommel, la volpe del deserto. Grande stratega, grande condottiero, il miglior generale tedesco, bla 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 bla. Perché? Non sono d'accordo su queste opinioni, perché semplicemente Rommel aveva degli enormi limiti. Il suo genio tattico era assoluto e indiscutibile. Diciamo che tatticamente era veramente paragonabile ad un Annibale o a un Alessandro Magno a livello tattico, ma a livello strategico, come mi ha detto più di una volta l'amico James Warspite, a livello strategico Rommel era ignorante come uno stivale, non ne capiva molto di strategia e di logistica. E quindi questo gli costò sanguinose disfatte e anche brutte figure. E una delle brutte figure più clamorose Rommel la fece nel 1941, nel novembre 1941. Sentiamo un po' che cosa ha da dirci l'amico Gianluca Bertozzi. Allora, il 15 novembre 1941 il generale Ochinlec, comandante dell'Ottava Armata Britannica, diede il via all'operazione Crusader, che aveva lo scopo di costringere l'armata italo-tedesca a togliere l'assedio a Tobruk e possibilmente a spingerla fuori dalla Cirenaica. Allora, Rommel era fortemente in contrasto con il suo formale superiore italiano, il generale Bastico. Un contrasto che si accentuò col passare del tempo. Rommel si propone di conquistare Tobruk e non si preoccupa minimamente dell'eventualità di un'offensiva britannica. È convinto Rommel che i britannici avanzeranno da Mars Amatro, che dista circa 140 km dal confine, solo quando egli avrà iniziato l'attacco a Tobruk e che perciò avrà tempo di conquistare la piazzaforte e rivolgersi poi contro l'Ottava Armata. Bastico, che era tutt'altro che stupido, invece crede alle notizie fornite dal servizio informazioni militari, dal nostro servizio segreto militare, che parlano di un'offensiva britannica imminente e si preoccupa che questa sia sferrata mentre Rommel ha tutte le sue migliori forze impegnate contro Tobruk. Rommel fu avvertito anche dall'ammiraglio Canaris che l'offensiva britannica era imminente, ma continuò a non prestare fede alle notizie di fonte italiana, estremamente affidabili però, e ancora a metà novembre le attribuisce a eccessivo nervosismo latino. Eccessivo nervosismo latino, un par di coglioni, come si vedrà da lì a qualche giorno. Perché? Secondo Rommel, semmai i britannici attaccheranno con poche forze dopo l'inizio del suo attacco a Tobruk. Le unità mobili italiane erano riunite in un gruppo nel corpo d'armata di manovra definito RECAM, ovvero le divisioni Ariete e Trieste, che fortunatamente non erano poste sotto il comando diretto di Rommel perché il supercomando dell'Africa settentrionale vedeva compromessa dalle intenzioni di Rommel la priorità del comando italiano e l'efficienza della riserva mobile, faticosamente raccolta in questo corpo d'armata di manovra. Ovvero sia, qualche lezioncina, a quanto pare, l'avevano pure imparata dopo il disastro di Compass. Allora, a Birel-Gobi, la divisione corazzata Ariete si era trincerata dal 12 novembre. Il 18, Rommel, non reputando affidabili le informazioni del Sim che prevedevano un'offensiva a breve degli inglesi, ordinò a Lariete di spostarsi in un'altra postazione a una ventina di chilometri. Gli italiani, che non erano formalmente sotto il comando di Rommel, e qui bisogna dire per fortuna, si rifiutarono e anzi il generale Gastone Gambara ordinò all'Ariete di trincerarsi e organizzare una postazione difensiva, cioè Gambara, che non era neanche uno dei migliori, cioè siamo sinceri, Gambara era oggettivamente un generale mediocre. Ma in questo caso si comportò realmente da condottiero e da stratega avveduto, mettendo di sua iniziativa la divisione corazzata Ariete sulla difensiva, alla faccia degli ordini di Rommel, che erano decisamente balordi. Allora, 16 e 17 novembre, gli inglesi si muovono. 100.000 uomini, 600 carri armati, 5.000 altri veicoli che avanzano senza contrasto, a parte qualche piccolo scontro con unità esploranti italo-tedesche, sino alla sera del 18 novembre. Il comando inglese era perplesso perché l'intero era ottava armata, aveva marciato tutto il giorno verso le retrovie di Rommel senza provocare una minima reazione da parte della Volpe del Deserto. Rommel era al suo posto di comando avanzato a Gambut. Non aveva la minima intenzione di reagire seriamente a quello che era certo, e qui si vedono tutti i suoi limiti come stratega, non era altro che un diversivo messo in scena per spaventare gli italiani Abir el-Gobi e Abir Hakeim, facendoli distogliere l'attenzione dal suo scopo principale di prendere Tobruk con un attacco che doveva iniziare 60 ore dopo. Allora, Rommel si gira i pollici e il comandante britannico che comandava la settima divisione corazzata, i topi del deserto, ovvero sia il generale Gott, meglio noto come Strafer, non aveva alcuna intenzione Gott di perdere l'iniziativa. Il 18 novembre ordinò alla 22esima brigata corazzata di avanzare e subire il Gobi, dove era nota la presenza della divisione corazzata italiana Ariete, la nostra migliore unità corazzata. Nello stesso tempo la settima e la quarta brigata corazzata dovevano schierarsi verso nord e prepararsi a combattere i panzer tedeschi se fossero apparsi. Le autoblindo dell'undicesimo reggimento Ussari avrebbero schermato e protetto le entrambe le operazioni con una funzione esplorante e di ricognizione. Allora, prime ore del mattino del 19 novembre. La 22esima brigata corazzata inglese si avvicina a Bir el Gobi. Le informazioni dell'intelligence inglese rivelano che l'intera divisione italiana Ariete era lì e che era in allarme perché le pattuglie di ricognizione del 22esimo reggimento avevano ingaggiato una dura schermagna con le autoblindo del ventesimo corpo italiano, il corpo d'armata di manovra o corpo d'armata mobile. Dopo questo scontro a Tayeb el-Esem tra Gabir Saleh e Bir el Gobi, le autoblindo italiane si ritirano verso nord. Allora, i carri britannici si dirigono a Bir el Gobi ma non sono dei veterani e mancavano di un addestramento adeguato. La brigata era stata formata nel 39 e arrivata fresca in Egitto il 4 ottobre del 1941. Ci volle tempo per abituarsi alle condizioni del deserto e poi soprattutto i nuovi carri armati Crusader A-15 erano molto maneggevoli ma erano decisamente molto 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 inaffidabili e inadatti alla guerra nel deserto. La settima brigata corazzata invece utilizzava i più vecchi Cruiser A-13 e la quarta brigata corazzata usava i carri leggeri americani M-5 Stewart che gli inglesi soprannominavano Honey Miele perché erano molto amati dagli equipaggi per la loro maneggevolezza e facilità di vita. Allora, gli inglesi non si erano potuti addestrare molto bene oggettivamente ma questo inconveniente non dissuase Gott, comandante della settima divisione corazzata, cioè i topi del deserto, dall'ordinare alla ventiduesima brigata di affrontare gli italiani a Birelgobi. Gott, la mattina del 19 novembre 1941, ordinò al suo comandante, il generale J. Scott Cockburn, di sferrare un vigoroso attacco agli italiani schierati in difesa su ordine di Gambara, ripetiamolo contrariamente ai desideri di Rommel. Dicevo, il comandante inglese ordina l'attacco alle posizioni italiane a Birelgobi. Il comandante della divisione giustamente riteneva che non sarebbe stato saggio lasciare la riete indisturbata alla sua sinistra e che il respingerla avrebbe consentito una facile occupazione della posizione da parte della prima divisione sudafricana, assicurando così il fianco del deserto britannico. Inoltre, aveva offerto una buona opportunità per far fare esperienza alla formazione britannica contro un avversario ritenuto, ingiustamente in questo caso, di seconda categoria in preparazione dei combattimenti molto più difficili che avrebbe affrontato quando sarebbero arrivati i tedeschi. Inoltre, ripeto, questa unità corazzata sarebbe stata supportata dalla prima divisione sudafricana che la seguiva. Allora, Gott non aveva fatto un ragionamento insensato o campato in aria. Anzi, ma non considerò una cosa che, a prescindere dalle prestazioni dei carriermati italiani, questi avrebbero combattuto da postazioni difensive supportata dall'artiglieria, che era sicuramente la migliore arma dell'esercito italiano. Un'arma dell'esercito italiano che aveva sempre dimostrato di essere abile e determinata, sin dai tempi dell'operazione Compass. E questo qui gli inglesi lo sapevano fin troppo bene, perché i rapporti ufficiali di Compass parlavano di una artiglieria italiana che resistette disperatamente e che si comportò in maniera eccellente. Allora, Gott non aveva inoltre previsto che l'inadeguatezza del sistema di comando e controllo britannico avrebbe compromesso i suoi piani. E qui gli inglesi sbaglierono loro. Sebbene molti fossero consapevoli che per quel giorno era stata disposta una offensiva verso Birel Gobi, gli ordini per i sudafricani agli ordini del generale Brink furono emessi solo all'inizio del 19 novembre e furono interpretati nel senso che i sudafricani si sarebbero mossi verso la postazione per occuparla solo dopo la conquista da parte dei corazzati britannici. Di conseguenza alla ventiduesima corazzata mancò soltanto un sostegno vitale di fanteria e artiglieria cazzata inglese in questo caso. Allora, la battaglia di Birel Gobi comincia e si apre il fuoco. Dall'altra parte Rommel aveva trasmesso via radio al generale Gambara, comandante italiano del ventesimo corpo, nella notte del 18 novembre, che non doveva preoccuparsi di un attacco nemico nel prossimo futuro. Gambara, ripeto, che non era un genio, anzi era decisamente un generale mediocre, lo ripeto, aveva scelto invece di ascoltare le proprie fonti di intelligence con una grande sagacia e con una insospettabile sagacia in un generale italiano, siamo sinceri. Gambara aveva scelto di ascoltare le proprie fonti di intelligence e avvertì il generale Balotta, comandante della Riete, che un assalto britannico sulla sua posizione era probabile per il 19. Quindi gli uomini della Riete erano pronti a ricevere gli inglesi, con 146 carri armati M13-40, 16 cannoni da campo da 105 mm, 32 pezzi da 75 mm, 18 cannoni anticarro da 47 i famosi elefantini e 8 cannoni antiaerei da 20 mm, le nostre famose e apprezzatissime mitragliere Breda. Allora, la divisione aveva passato l'autunno ad addestrarsi e aveva acquisito fiducia nella sua capacità di combattere specialmente in posizioni preparate. Il grande talento italiano nella guerra difensiva. Nella guerra difensiva noi italiani eravamo degli ossi decisamente duri da rodere, come si accorsero gli inglesi in questo caso, come si accorsero in Tunisia, come si accorsero anche i russi di Vatutin durante l'operazione Piccolo Saturno. Ma torniamo a Birel Gobi. Allora, l'ordine di battaglia della divisione Riete a Birel Gobi includeva i tre battaglioni del 132esimo reggimento corazzato, i tre battaglioni dell'ottavo reggimento bersaglieri, tre compagnie di cannoni anticarro da 47 mm, e il 132esimo reggimento di artiglieria motorizzata, composto da tre gruppi. Allora, l'addestramento, ok, le fortificazioni, insomma, effettuate attorno alla posizione di Birel Gobi, e l'intelligente sistemazione fatta dal generale Balotta di tre caposaldi, ciascuno dei quali era occupato da un battaglione dell'ottavo reggimento bersaglieri e sostenuto dall'artiglieria divisionale e da una batteria di cannoni da 105, assegnati alla riete dal ventesimo corpo. Inoltre, c'erano sette cannoni navali da 102 mm della milizia marittima in grado di sparare proiettili perforanti e montati su camion, che erano usati come armi anticarro a lunga portata. Quando iniziò la battaglia, i carri armati del 132esimo reggimento corazzato erano pronti al contrattacco. Allora, la battaglia si sviluppa in maniera, diciamo, decisamente subito, come una battaglia estremamente violenta. Dalle sette di mattina, praticamente, i carri nemici si precipitano sulle nostre postazioni e la ventiduesima brigata corazzata attacca con il supporto dei pezzi da 25 libri. Praticamente gli equipaggi dei carri armati britannici ingaggiarono i nostri carri armati e alcuni dei nostri carri armati furono distrutti, mi pare, tre o quattro. Praticamente in inferiorità numerica gli italiani si ritirarono dietro le difese di Birregovi. Gli inglesi, entusiasti del loro primo assaggio di combattimento e ansiosi di finire quello che presumevano fosse un avversario demoralizzato e sconfitto, attaccarono nuovamente verso mezzogiorno, ma qui, ma qui, ma qui, si sbatterono clamorosamente contro le difese dell'Ariete, caposaldi ben costruiti, ben difesi e, contrariamente a quello che era accaduto durante Compass, in grado di fornirsi supporto reciproco. Cosa che quella testa di minchia di Graziani non aveva minimamente capito, ma che Gambara e i suoi sottoposti avevano fatto in maniera, a dir poco, eccellente. Allora, la spinta principale dell'attacco era diretta verso la parte destra dello schieramento italiano, ma il volume di fuoco dei nostri pezzi anticarro e dell'artiglieria fece sì che l'avanzata fosse spostata quasi subito verso il centro e lì la nostra fanteria diede fuoco, cioè insomma diede inizio alle danze. La distanza tra gli attaccanti e i difensori arrivò a 200 metri o anche meno e i nostri cannoni anticarro da 1947, i famosi elefantini che all'epoca erano veramente tra i migliori pezzi anticarro e di supporto alla fanteria del conflitto. E poi anche i cannoni da 1975 inflissero gravi danni ai britannici che poi furono respinti anche dai carri armati M13 del nono battaglione del 132esimo reggimento. I comandanti inglesi reindirizzarono di nuovo il loro attacco verso la parte destra dello schieramento italiano, ma purtroppo erano decisamente inesperti e impreparati e durante questa manovra furono persi molti carri che avevano esposto il fianco al tiro dell'artiglieria italiana senza poter restituire il favore. Ma anche se male iniziato questo attacco inizialmente ebbe successo perché il settimo battaglione bersaglieri era attestato su postazioni non ancora completamente fortificate. In un primo momento 300 bersaglieri si arresero ai carri britannici, ma dato che i carri non erano supportati dalla fanteria, i soldati italiani ripresero le armi e ricominciarono a combattere come a satanati. Nel frattempo questa resistenza aveva permesso ai carri armati italiani di accorrere bloccando l'avanzata delle forze corazzate inglesi. Dopo questo breve successo gli inglesi furono inchiodati dal fuoco dei canoni italiani da 1947 e 1975 e bloccati anche dai campi minati e qui venne fuori tutta la mancanza di esperienza di combattimento di questi reggimenti che attaccarono ciecamente quella che pensavano fosse una colonna di camion italiani ma che un'imboscata magistrale che li portò contro delle postazioni anticarro che guidate dal distaccamento di artiglieria navale da 102 mm fece in pochi minuti a pezzi sei carri armati Crusader che bruciavano davanti alla prima linea italiana. E Rommel sosteneva che non c'era da aspettarsi un attacco. Che vi devo dire? Che vi devo dire? Gambara più bravo di Rommel? In questo caso sì. Allora, per tutto il giorno i carri britannici continuarono ad attaccare. Avevano richiesto il supporto dell'artiglieria inglese per contrastare la fortificazione italiana. Ma purtroppo le comunicazioni radio erano difettose e fallaci e quando il fuoco d'artiglieria era usato era piuttosto debole perché la brigata era accompagnata solo da pochi pezzi da 25 litri. Allora, alle 15.30 a Bilelgobbi fu lanciato un attacco di alleggerimento dell'inglese e si scontrarono 100 carri armati per parte. Allora, gli inglesi avanzarono ad alta velocità verso nord. Gli italiani tentarono un attacco sul fianco. Dopo un'ora, dopo un'ora, praticamente gli inglesi dovettero ritirarsi con gravissime perdite. Perché? Perché i nostri mediocri carri M, ben guidati, ben condotti, ben usati e memori della lezione di Compass, non si erano fatti prendere di sorpresa ed erano riusciti ad affrontare alla pari i mezzi inglesi. Tutto qui. Allora, una sconfitta inglese è questa che compromise l'intera operazione Crusader perché dopo il combattimento a Bilelgobbi i carri armati britannici si ritirarono rapidamente e la prima battaglia corazzata dell'operazione Crusader fu una indiscutibile vittoria italiana. Allora, i primi resoconti britannici intesi a spiegare la sconfitta inglese sostenevano che alcuni degli M13 erano condotti da equipaggi tedeschi e fossero anche presenti dei Panzer IV, ma non c'era alcuna base di verità su queste affermazioni. Gli inglesi non si erano resi conto che gli italiani avevano imparato bene la lezione di Compass e si aspettavano di trovare un esercito demoralizzato e debole, come quello che avevano disfatto pochi mesi prima durante l'avanzata verso la Cirenaica agli ordini del generale O'Connor. Allora, le perdite inglesi furono gravi, diciamo circa una cinquantina, da 35 a 50 carri armati. La 22esima brigata disse di aver perso tra guasti perché i nuovi Crusader erano veramente dei water. Non erano carri armati, erano water. I Crusader fecero una brutta figura in battaglia. La 22esima brigata segnalò di aver perso 82 carri tra perdite in combattimento e guasti. E per il resto dell'operazione Crusader non riuscì a schierare più di 20 carri armati al massimo. I carri armati italiani distrutti variano da 45 a 50, secondo le affermazioni dei rispettivi contendenti. Gli inglesi dicono di averne distrutte circa 45. Gli italiani affermano che 34 M13 andarono persi, 15 furono danneggiati ma erano recuperabili. Allora, la divisione segnalò anche che 4 cannoni da 75 e 12 da 47 mm andarono persi, 15 uccisi in azione, 80 feriti, 82 dispersi. Inoltre furono catturati 37 tra ufficiali e soldati britannici. La battaglia di Bilal Gobi influenzò poi l'intera operazione Crusader. La riete rimase in posizione per alcuni giorni a guardia del fianco dell'asse, costringendo corazzati e fanterie britannici a schierarsi contro di lei, impedendo alla settima divisione corazzata di concentrare la propria forza contro i panzer tedeschi, tenendo chiusa la porta di Tobruk a Sidi Rezeg. Aiutando a tenere disperse le forze corazzate britanniche, la riete ha anche permesso che si creassero le condizioni per le vittorie dei carri tedeschi contro le unità corazzate britanniche disperse. Allora, la riete fece un'eccellente azione durante la battaglia di Bilal Gobi. Fu guidata in maniera capace dai propri comandanti. Gambara, per una volta, dimostrò di essere un generale sagace e capace di prendere decisioni e di prendersi soprattutto la responsabilità di disobbedire ad un mito come Rommel. Perché? Perché avevamo imparato a carissimo prezzo la lezione di Compass. Allora, io, grazie all'amico Gianluca Bertozzi, ho spiegato cosa accadde per sommi capi a Bilal Gobi quella volta. Rommel, durante l'operazione Crusader, dimostrò di essere tutt'altro che uno stratega. Dimostrò i suoi enormi limiti come stratega. Ripeto, il suo genio tattico era assolutamente indiscutibile e rubando nuovamente la battuta all'amico James Worspite era veramente un tattico al pari di Alessandro Magno o di Annibale. Ma come stratega Rommel non valeva niente. Niente. Perché? I suoi errori sono clamorosi e fu il tanto esecrato, debole e deriso, siamo sinceri, deriso, alleato italiano a salvargli le chiappe. Perché se Gambara non gli avesse disobbedito e non avesse messo sulla difensiva con una preziosa settimana di anticipo la divisione corazzata a Riete, gli inglesi avrebbero molto probabilmente sfondato le linee italo-tedesche, sarebbero arrivati a Tobruk e Rommel sarebbe stato sbattuto in mare a pedate in culo. Quindi, siamo sinceri, Rommel è stato sì un grande e carismatico condottiero, ma, 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 aveva dei limiti enormi, aveva dei difetti gravi e soprattutto, e soprattutto, e soprattutto, badava un po' troppo alla sua immagine. Tutto qui. Quindi, cari signori, il sottoscritto vi ringrazia per l'attenzione, vi saluta, e, come dire, nuovamente grazie al preziosissimo, indispensabile aiuto dell'amico Gianluca Bertozzi, che mi fornisce le dritte, le fonti e soprattutto le basi su cui fare questi video con queste considerazioni. La fonte, potete trovare i dati di cui ho parlato sull'articolo scritto da Antonio Marazziti, un articolo intitolato L'Ariete a Bir el Gobi su Storia militare numero 136 del gennaio 2005. Le fonti sono queste. Allora, siamo sinceri, più chiaro di così direi che non si può. I limiti di Rommel, i meriti del nostro esercito e una sonora pernacchia in faccia a certi tifosi che dovrebbero rendersi conto che il tifo sarà pure una bella cosa, ma va bene, giusto appunto, nel calcio o nello sport. Non certo quando si parla di storia. Va bene? Quindi, cari signori, io vi ringrazio per l'attenzione, vi chiedo scusa per la lunghezza del video, ma è un argomento che andava trattato con chiarezza. Spero di essere stato comprensibile e chiaro, ripeto, e vi auguro buonasera e arrivederci nuovamente al mio prossimo video.